E torneremo più tardi sul rapimento di Aldo Moro, intanto ad una settimana dal debutto in Parlamento le forze politiche sono alla ricerca di un'intesa per l'elezione dei presidenti delle Camere. Il Movimento 5 Stelle ha avviato un primo giro di consultazioni, non ci interessa il gioco delle poltrone, scrive Di Maio, vogliamo tutelare anche le opposizioni. Sonia Dottavio. Ora che la richiesta della presidenza di Montecitorio è sul tappeto e la trattativa è avviata, Di Maio si rivolge agli elettori per spiegare la linea. A noi chiarisce non interessa il gioco della poltrona. Quello che ci preme è che il Parlamento funzioni al meglio perché è lì che si decidono le leggi che possono cambiare la qualità della vita di tutti. Per questo agiamo nella massima trasparenza. Arriva a dirlo è la capogruppo designata Giulia Grillo. Maggiore la qualità del lavoro del Parlamento, maggiore sarà la qualità delle leggi per il nostro Paese. Come prima forza politica di questo Paese abbiamo chiesto la presidenza della Camera in trasparenza e alla luce del sole. Abbiamo incontrato le altre forze politiche per ribadire il nostro metodo, separare le presidenze delle Camere dalla formazione del governo. Il Movimento attraversa una fase delicata. Dalla chiusura passa al dialogo con gli altri partiti. Un dialogo che Di Maio definisce non semplice eppure necessario perché la presidenza delle Camere spiega è cruciale per la vita democratica del Paese. E anche per raggiungere l'obiettivo numero uno del Movimento, l'abolizione dei vitalizi. Per ora niente nomi. La candidatura arriverà alla prossima settimana per evitare di andare a sbattere sui veti incrociati degli altri partiti. E quando forse sarà più chiaro quanto la partita delle presidenze potrà incidere sul capitolo successivo, quello del governo? Unica nota polemica. Chi oggi è in minoranza quando era ai vertici del Parlamento, scrive Di Maio, non si è fatto scrupolo di impedirci di far sentire la nostra voce, di cancellare con un colpo di spugna i nostri emendamenti. Noi, conclude, anche in questo siamo diversi. Questa volta andremo al governo, saremo maggioranza, ma vogliamo tutelare tutti, anche le opposizioni.